Io ho sentito che c'è casa di cultura che aiuta stranieri. Mamma mia, avete dei bambini? Una figlia, 12 anni. Noi abbiamo informato sui nostri diritti, tu non puoi fare niente. Oh, andate via, vi mando le ruspe. Ma tu che cosa desideri veramente? Mi piacerebbe studiare e avere una migliore amica. E' in gamba, Camilla. E sveglia. Certo, la situazione non l'aiuta. Perché non facciamo un corso di danza? Con una maestra così troviamo un sacco d'aliene. Grazie. 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 Grazie.